Sembra che i capelli sporchi, in realtà me li sono lavati i gheli Sono anche malata, cioè in realtà malata, mi sta salendo un raffreddore Ho fatto l'albero, ho fatto un alberello in casa piccolissimo, praticamente arriva così a qui Questa è proprio la fine, quanto l'inquadratore del video, io sono vicino alla porta d'ingresso Quindi è un po' freddo qui, ma che sarà tutta la casa fredda Vi faccio un video aggiornamento, è un po' strano senza truccarmi, senza fare niente Che cosa è successo dall'ultima volta? L'ultima volta vi ho lasciato dell'ultimo video aggiornamento Quando mi sono, quando era nell'altra casa e ho preso il coniglio che è in giro qui Dov'è mo? Non lo so, ve lo ecco qui Mo? Non è bene È un bastardino, è un bastardo No, dietro il divano, perfetto Mi sono trasferita, come avete visto negli altri video che ho fatto Mi sono trasferita in una casa da sola Per prima vivevo con delle conquiline, con tre conquiline In una città, adesso mi sono trasferita in un paese dove lavoro Che cosa sta succedendo nella mia vita? Sono felice? Non sono felice? Sono migliorata, diciamo, per un periodo Sono stata meglio col lavoro perché, insomma, diciamo, nuovo lavoro Quindi mi sentivo meglio Mi sentivo un pochino più attiva Poi fare i viaggi Avere la casa tutta, avere una camera per te Insomma, diciamo che era una cosa nuova E quindi dentro di me mi sentivo abbastanza tranquilla Ora che le cose si sono tranquillizzate Quindi è passato del tempo, sono passati dei mesi Io mi sento di nuovo un po' così Le medicine le sto prendendo ogni tanto Perché mi dimentico Ho dei problemi, insomma, con questa cosa Mi sto lasciando andare Mi sto lasciando un po' andare ultimamente Lo vedete un po' dal mio viso Dalla casa, insomma, voi non lo vedete Però avendo una casa da sola La devo pulire, la devo ordinare E io molte volte la lascio proprio Quasi sempre, in realtà, molte volte La lascio proprio in balia di se stessa Già tanto che ogni tanto mi ricordo di lavare i piatti Ed è una cosa brutta da dire Però faccio fatica anche a fare quello Quindi io vado al lavoro Torno e mi sdaio nel letto E sono inerme praticamente Ma non sia per la stanchezza Sia perché non riesco a fare nulla Non riesco a fare nulla Non riesco neanche a leggere Ultimamente però sono riuscita a Mi è tornata un po' la passione prima Anche una roba del genere Perché avevo un po' smesso Ecco Avevo smesso Avevo continuato a comprare un pochino Però sono le cose importanti Tipo, importanti che da seguire Tipo Black Clover, no? Ma non avevo comprato nient'altro Non avevo comprato molt'altra roba Solo che ultimamente ho iniziato a rivedere dei video E quindi mi è venuta di nuovo la voglia E sto continuando a leggere Ieri ne ho letti tipo 5 Cioè 4 Più altri 2 3 Comprendo quello di stamattina Di un'altra serie Quindi sto già leggendo abbastanza E io sono molto proud di me stessa E a parte che Yamada Kun è tipo bellissimo Tipo carinissimo Come serie Buone che mi guardi così Poi mi sto cercando di tirare su Avendo proprio Mi sto comprando l'affetto Diciamo Che non ho Perché non lo sento Non sento affetto Non sento niente Me lo sto comprando con I libri Se appunto i manga Me li sto comprando serie nuove Oppure comprando roba per la casa Io cerco di comprarmi l'affetto così Però è una cosa abbastanza momentanea E io lo so benissimo Quindi continuo a ricomprare altra roba Ma il sentimento comunque non mi passa Il sentimento Il pensiero negativo e queste cose così Non mi passano Che stanno ritornando E io sono molto preoccupata Perché non mi piace Sembra Non so se ve l'avevo mai detto O roba del genere Ma io mi sento come se fossi due persone Quindi Una sostiene l'altra Una sopporta l'altra Sopportare questa mia parte Nella parte inerme Che proprio Non si muove La parte apatica Che proprio Non ha niente Cioè non sente niente Si sente proprio Una carcassa Addosso Mi sento una carcassa Proprio È pesante È pesante Io lavoro tutto il giorno E poi soprattutto come sono io In questo momento Non riuscirei ad uscire A portarla fuori Invece a casa di miei genitori C'è un giardino C'è tutto quello che vuole Tutto quello che può Volere un cane Ce l'ha Quindi so Benissimo che lei Sta meglio lì con loro E io vado a trovarla Come sono andata a trovarla Ogni settimana Praticamente Io vado ogni settimana Magari la porto in giro E sto con lei Gioco con lei E comunque La vedo Mi fa compagnia qua Anche se non è affettuoso Come allora Ci vuole Dobbiamo ancora lavorarci Perché è uno stronzetto Mi graffia Però Appena entro nella stanza Mi segue E roba del genere Quindi ci stiamo lavorando Poi vado a cavallo La novità è Che vado a cavallo Vado a equitazione Quindi ho aggiunto Un altro animale Però non me lo sono portato in casa Quindi faccio lezione Da Novembre Inizio novembre Credo Un medetto Comunque l'ho fatto Faccio Appunto Vado a lezione Ogni settimana So Almeno una volta Due volte a settimana Lo faccio Mi sta di nuovo Prima ero molto contenta Adesso è passato un mese Ma quando l'ho iniziato Un mese Ero molto contenta Volevo andarci sempre Invece adesso Mi sta Insomma Diciamo che si sta facendo Sentire l'effetto Dell' Dell'umore Insomma Si sta facendo Sentire Anche in questo ambito E non sono contenta Per niente Perché comunque Mi piace Mi piace tanto Quindi niente Insomma Diciamo che I aggiornamenti Non sono super Super fantastici Però Spero che questo Natale Sia Sia Abbastanza tranquillo Anche se Mi sento molto in ansia All'idea Di Natale All'idea del Capodanno Mi sento molto male Perché le feste Non mi piacciono Perché forse Sono da sola E roba del genere Quindi Non mi fa stare Benissimo Però vabbè Guadagnerò di più Che ti devo dire Comprerò un'altra cosa Comprerò altri manga E Per un po' Starò meglio Così E nulla Io vado a leggere Perché Voglio di leggere ancora Voglio di leggere Il mio amato Yamada Mi sdraio Leggo Leggo un po' Vi pubblicherò questo video E forse Ho registrato A casa dei miei genitori Anche una clip Nella mia Nella mia Libreria Di manga E penso che vi farò Un aggiornamento Anche se non è passato Neanche un anno Ho notato Io pensavo di sì Ma invece no Io mi faccio Mi faccio Mi faccio un po' Mi fa Mi sa che vi faccio L'aggiornamento Se ve lo pubblico Ve lo pubblico Dopo questo video Bene Ho solutato il mio albero Sono stata la mosca Che mi sta impastidendo Da due ore Bene Ciao Ciao Ciao